Ciao a tutti, io sono Ireni e bentornati in questo nuovissimo video. Buon 2019, sì, che bello, che gioia, non tanto perché ci sono gli esami adesso, quindi vabbè. Oggi ultimo video dei preferiti, preferiti di dicembre. Allora, sarà l'ultimo anche dedicato al Natale perché dicembre per me è stato Natale sempre, tutti i giorni, quindi i miei preferiti sono tutte cose natalizie. Le mie canzoni preferite infatti è sempre All I Want For Christmas Is You. Sono stata anche leggermente fissata non solo con la canzone ma con la cover delle Fifth Harmony che hanno pubblicato tipo quattro anni fa, però è sempre nel mio cuore. Per quanto riguarda i libri, non ho potuto fare a meno di rileggere Lady Snow, cioè adoro. Mi ero promesso di leggere altro, libri natalizi per Natale, ma non ce l'ho fatta, ho voluto fare per forza questa rilettura perché io non le faccio mai e mi volevo regalare proprio la prima rilettura del 2018. Quindi vi ho fatto già la recensione e vedo la link o da qualche parte su delle schede, così potete sapere cosa penso di questo libro, anche perché dura tipo 5 minuti, quindi potete spendere altri 5 minuti per guardare un mio video. Sì sì. Quanto riguarda i film invece, è un film di cui vi ho già parlato nei quattro film Netflix da vedere a Natale e stiamo parlando di The Princess Switch con Vanessa Agents che io adoro tantissimo, cioè io l'ho conosciuta grazie a Esco Musical che avevo 8 anni, ora ne ho 21 e quindi non vi devo fare a meno di vedere un altro suo film. Vi linko sempre il video dei film Netflix da vedere a Natale così potete sapere di cosa parla e cosa penso di questo film e spero che vi possa piacere in modo tale che anche vi possiate vedere altri film natalizi anche perché siamo ancora in tema, cioè non dimentichiamoci che le vacanze di Natale durano dal 24 al 7 gennaio, cioè non dimentichiamocelo. Per quanto riguarda le serie tv invece, non c'è stata una serie tv specifica natalizia che ho visto, ma semplicemente sono andata a spulciare gli episodi natalizi di varie serie tv che ho visto e che vedo. La mia preferita è sempre quella del mio cuore è la puntata natalizia di una mamma per amica, che vabbè ma è una mamma per amica, ma ragazzi adoro tantissimo come serie quella puntata, cioè adoro tantissimo. Credo che questo sia stato il video preferito, cioè più corto di tutti gli altri, anche perché sono tutte cose di cui vi ho già parlato, poi vabbè come vi ho detto già nel video dei buoni propositi non è che mi piace più fare questi video preferiti, lo so che magari dovrei metterci un po' più di entusiasmo a fare questi video, però per concludere l'anno in bellezza avrei dovuto metterci un po' più di impegno, lo so, però questo è l'ultimo anche, quindi vabbè. Però capitemi bene che no, basta, chiedo qua, c'è concluso i video dei preferiti, magari in futuro potrei rifarli, ma per un momento no. Vorrei concentrarmi su altri progetti di cui vi ho già parlato nel video del settimana scorsa, che vi linko anche questo da qualche parte. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanina per non parlare di un altro video. Ciao!